Endless Love è la nuova serie turca in onda tutti i pomeriggi su canale 5 nel cast Nesli Anatagul, l'attrice che interpreta la meravigliosa Nyan in quanti non possono più fare a meno di seguire le puntate di Endless Love La soap è la nuova scommessa Mediaset, un racconto che nelle ultime settimane sta letteralmente incollando i telespettatori allo schermo Sono ormai diversi anni che le serie turche stanno regalando al pubblico racconti e storie d'amore emozionanti Il successo dei vari prodotti è di sicuro determinato oltre che dalla trama, anche dai protagonisti scelti per interpretare i ruoli In Endless Love Nyan e Kemal, sono la coppia più seguita I due sono travolti da un sentimento importante, ostacolato da molteplici complicazioni Una tra tutte il matrimonio della donna con Emir Nyan, N-E-S-L-I-H-A-N-A-T-A-G-U-L Il suo amore nella vita reale Il pubblico si è puntata dopo puntata, affezionato alla storia d'amore tormentata tra i due protagonisti La curiosità che spinge i fan a seguire tutti i momenti si concentra principalmente sulle sorti della coppia Riusciranno a trovare la chiave giusta per viversi felicemente questo amore? Nella vita reale le cose stanno diversamente Nyan, interpretata da Nesli Anatagul, è pazza d'amore per Kadir Dogulu I due si sono conosciuti sul set, e da quel momento non si sono più separati Nel 2016 si sono uniti in matrimonio Travolti da un amore profondo, che rende la loro vita piena di esperienze indimenticabili Entrambi famosissimi in Turchia, il compagno della protagonista più amata di Canale 5, è un attore molto famoso La vita professionale e personale di Nyan, è ricca di grandi traguardi Di sicuro la possibilità di poter approcciare anche al pubblico italiano permetterà all'attrice di poter innalzare e coltivare l'amore e la stima di ulteriori fan Chissà se il successo di Endless Love, permetterà al cast di poter spaziare in nuovi progetti, come è successo per Kenya Man Di certo un grande punto a favore di queste show, si concentra sulla messa in onda giornaliera delle puntate Questo, un modo per permettere al pubblico di affezionarsi ai vari protagonisti, diventando parte attiva, seppur attraverso uno schermo, delle varie storie Kemal e Nyan, sono diventati la coppia più amata del momento, i loro personaggi hanno attirato l'attenzione dei fan, speranzosi di poter assistere ad un lieto fine degno del sentimento palesato nelle varie puntate Insieme a loro, tanti altri attori che insieme, regalano alla storia un successo clamoroso Tutto è ancora da scoprire, per questa ragione, non perdetevi gli appuntamenti settimanali di Endless Love